Io mi chiamo Mauro, ho 62 anni e vengo da Bologna. Fondamentalmente la mia difficoltà era nel mangiare. Non avevo i denti, avevo solamente gli incisivi e facevo proprio difficoltà con tutto quello che ne consegue di gestione. Ho avuto tanti problemi. Ho dovuto rinunciare a una cosa bellissima, che è il sorriso. Purtroppo non potevo sorridere. Invece adesso posso farlo. Adesso posso veramente essere tranquillo nel poter esprimere un sentimento che è bellissimo, quello di sorridere. Il dottor Palmas mi ha convinto per il sistema bionico. Io ho capito che cosa ha in bocca. Io ho trovato sin da subito grande professionalità. Io ho trovato veramente dei professionisti, sia dei medici che dello staff. La clinica è organizzata in modo tale che tu devi dare solo la tua persona, perché tutto è in funzione a che vada bene l'intervento che si fa in bocca. Il consiglio è proprio quello di andare a informarsi. È fondamentale. Intanto sono molto più tranquillo. Sono più sereno. Posso manifestare un sentimento, che è il sorriso, e non avere più paura di mettere la mano davanti alla bocca, che è la cosa più brutta. Cosa farò di nuovo? Sicuramente è sorridere. Sorriderà la vita. Io faccio un lavoro che sono in mezzo alla gente tutti i giorni. E adesso posso essere me stesso. Posso esprimere me stesso con il mio sorriso. Quello che è per una vita. E il dottor Palmas effettivamente ci dà il sorriso nuovamente. Grazie a tutti.